La nostra economia è divorata da un cancro, la frode e la truffa fiscale. E' vergognoso che mentre agli Stati venivano imposte cure da cavallo di austerità, alcune società multinazionali e privati cittadini sottraevano miliardi di euro alle casse pubbliche non bagando le tasse. Abbiamo denunciato come socialisti e democratici questa vergogna. Lo ripetiamo fino alla noia, le tasse devono essere pagate nel paese in cui si fanno i profitti. La gente di Polo è proteggata da loro. La situazione per i rifugiati è importante perché, mi dico così, il l'anno è venuto. E ancora abbiamo la situazione, soprattutto in Grecia, sull'islande, che i rifugiati sono in attrapposti, a volte vivono solo in sommertans. Siamo chiedendo solo tre cose. La Commissione e il Reggio di Grieca hanno bisogno di assicurare che i migliori possano lasciare i sommertans, dove sono in attrapposti. Secondo, altri membri Stati dovrebbero essere passati a mandare le persone sotto la regola di Dublino a Grecia. E la terza questione è che abbiamo bisogno di aumentare il numero di rilocazioni di Grieca a altri paesi, e tutto questo deve succedere ora. C'è un rapport molto importante perché, se noi non avevamo mai fatto, a la fine dell'anno, la Chine accendia al statuto di economia di mercato. Cosa vuole dire? Cosa vuole dire che l'Europa non poteva opposare a la Chine nessuna barriere anti-dumping. E per milioni di empli in Europa, c'era la menace di disparaci. Siamo parvenuti, noi, sociodemocrate, a incluire in la definizione del dumping un elemento social e ambientale. D'un certo modo, la battaglia ne fa che cominciare, perché c'è una victoria al Parlamento europeo, che è molto vicino a la scuola, ma ora è bisogno che il Consiglio decide. Ci vogliamo cambiare la situazione in Europa. Ci vogliamo assicurare che tutti in Europa, quando abbiamo un lavoro, abbiamo un contratto di lavoro e abbiamo reale accesso a la protezione sociale. Questo è importante, perché noi stiamo parlando con molte competizioni mondiali, anche la rivoluzione digitale, più e più, in particolare, più persone, in particolare, persone, lavorano per le platforme online. E ci vediamo molti di queste persone lavorano senza un tipo di contratti o di protezione sociale. Abbiamo bisogno di dare un punto a questo. Abbiamo bisogno di essere il primo pio di imprendere sul campo, con reale lezioni, reali lezioni finanziari, e una nuova direzione per le politiche economiche e sociali. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.